Auguri a tutti i papà e i babbi del mondo! Dopo aver preparato la frolla, la stendiamo, rivestiamo una tortiera e andiamo a bucherellare per fare la cottura in modo più uniforme. Prepariamo le nostre letterine con gli appositi stampini, quindi auguri papà. Andiamo a farcire la nostra crostata con la marmellata di fragole spettacolare a basso contenuto di zuccheri. Una volta pronta facciamo dei fiorellini per andare a decorare la nostra crostata e renderla ancora più carina. Andiamo ad infornarla e una volta cotta la lasciamo raffreddare. A questo punto possiamo iniziare a mettere le letterine per scrivere appunto auguri papà. Eccoci qua, iniziamo a mettere tutte le letterine e aggiustandole in modo tale ci stiano, praticamente perché non tutte le rosate sono grandi abbastanza. Una volta pronta, guardate qua che carine anche le letterine, andiamo a dare una spolverata di zucchero a vero per rendere il tutto molto più carino. E che dire, io sono felice perché mio marito è un papà meraviglioso, quindi faccio gli auguri a tutti i papà del mondo e anche ai babbi perché io sono toscana. Il cuoricino è un po' a mancare e che dire, la ricetta la trovate naturalmente sul mio blog. Io vi aspetto, vi auguro una buona festa a tutti, un bacino a tutti da In Cucina con Frollina e... Ciao tutti!